Una ragazzina a dir poco ribelle è stata arrestata dai carabinieri di San Giorgio Ionico a Taranto, 17 anni appena e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia continuati. Sono stati i genitori esasperati a chiedere aiuto, riconoscendosi ormai incapaci di gestire un carattere non semplicemente difficile, ma sempre più aggressivo ed incontrollabile. L'ultimo episodio è il danneggiamento dell'auto dei genitori, molto più che un dispetto, e solo perché la ragazzina non aveva ottenuto i soldi richiesti. Da qui la chiamata al 112 della mamma e lacrime, la richiesta di intervento di una pattuglia. La donna ha così vuotato il sacco, liberandosi di quel groppo in gola e raccontando ai carabinieri del comportamento ribelle della figlia, che a quanto pare pretendeva sempre più spesso denaro, probabilmente per comprare droga. Ho sorpreso mia figlia a fumare spinelli, avrebbe spiegato la donna, ma ora non sappiamo più come fare. La diciassettenne non voleva neanche saperne più della scuola. E così, accertato che effettivamente la minorenne, di fronte ad ogni rifiuto di denaro, distruggeva gli oggetti in casa, e soprattutto aggrediva i genitori, i militari hanno arrestato e accompagnato la ragazzina in una comunità educativa per minorenni.